Siamo con Rosanna Conte, europarlamentare, che ci spiegherà della plenaria sulla situazione Covid. Questa settimana in plenaria abbiamo votato il certificato COVID-19, che consiste in quella certificazione che possono avere i cittadini che hanno fatto la doppia vaccinazione dopo 15 giorni ed entrare in vigore il 1 luglio, oppure viene concesso da chi ha avuto la malattia entro i 9 mesi o da chi fa il tampone molecolare prima di fare ogni tipo di trasferimento. Si precisa che non è obbligatorio fare il vaccino, l'importante è per viaggiare sicuri e incrementare il nostro turismo e la nostra economia essere sicuramente prudenti e pertanto provvedere a seguire queste regole. Si ribadisce che comunque le mascherine sono obbligatorie lo stesso e anche distanziamento. Per cui dobbiamo assolutamente proteggerci, non dobbiamo sentirci colpoverizzati o controllati da questo passaporto, come vogliamo chiamarlo, per il Covid, perché serve soltanto per la nostra economia e per il nostro turismo e per la nostra salute. Quindi chiedo a tutti assolutamente di rispettare le regole. Grazie mille!